E carissimi amici ed amiche bentrovati benvenuti sul canale buon sabato a tutti è doveroso ovviamente credo che ve lo aspettiate che si faccia un po di commento su quello che si è visto ieri a questo grado che comunque si occupa di questi casi di cui mi occupo anche io sul canale quindi inizierei a parlare del caso Liliana Resinovic e dobbiamo anche in questo caso essere sempre più chiari ormai il tempo che rimane per dire certe cose non è che sia molto e allora come non considerare la solita sceneggiata in me andata in onda ieri sera e la solita sceneggiata dello Serpin che dopo magari analizzeremo allora io dico cosa proponete ecco ad un GIP cosa gli andate a proporre la solita storiella e non una alternativa sulla quale poter stabilire un prolungamento di indagini un approfondimento cosa gli andate a proporre ci si perde un po in delle amenità in delle bazzecole la macchia di sangue fuori al sacchetto la contaminazione quei sacchetti che sono compatibili con quelli del supermercato poi si dice anche se un po più grandi sono dei dettagli non dicono interessanti potrebbero anche essere interessanti si parla ancora dei traumi che ci sarebbero sul corpo di Liliana e giustamente la ex PM Puglisi dice ma bisognerebbe chiedersi soprattutto traumi ad opera di chi cioè se non si riesce a fare un'ipotesi dicendo ad opera di chi qual è la vostra ipotesi non può essere sempre ricondotta la storiella cioè chiedere a un GIP un supplemento di indagini a quale fine per vedere forse ancora se Sebastiano in qualche modo ha fatto del male a Liliana per non farle coronare il sogno della sua vita dobbiamo ancora una volta tornare lì poi ancora si torna sulla possibilità di congelare un corpo stavolta in un grosso abbattitore che rispetto a un congelatore normale non lascia segni di congelamento sul corpo e che sono in uso nei grandi ristoranti ma siamo sempre lì anche volendo ammettere questo che è interessante ma se non offrite una alternativa alle indagini che cosa se ne parla a fare? tanto è vero che in studio adesso mi sfugge il nome dell'opinionista ci si chiede ma a quale scopo? ma mi spiegate? si dice a quale scopo dover nascondere un corpo? ecco si arriva a dire ma mi spiegate lo scopo di dover nascondere un corpo? in sé è anche giusta la domanda perché a loro a loro del programma non gli sfiora minimamente la ipotesi che la gente di malaffare restituisca il corpo nei sacchi della spazzatura dopo averlo tenuto lo restituisce nei sacchi della spazzatura come un segnale a chi deve capire come non ci si composta questo non viene ipotizzato da nessuno dei presenti poi con Sebastiano lì seduto si comincia il teatrino la solita il solito teatrino il solito teatrino di quasi tutti i venerdì di uno sterpin che è ormai fuori controllo che a mio avviso ha fatto danni a questa indagine come lo può fare uno tsunami e ancora viene intervistato credo a solo scopo di fare spettacolo aumentare gli ascolti ma tanto durerà questa cosa ancora per poco lui è diventato l'unico amore della vita di Liliana lui che dice che Liliana non era affatto combattuta tra due uomini perché era lui l'unico uomo della vita perché non si è fatta viva con lei perché non poteva parlare avendo una pistola puntata alla tempia forse è l'unica cosa che involontariamente ha detto giusto era minacciata sicuramente è una forma a mio avviso di delirio totale dice si sta negando d'evidenza dei fatti era lei che chiamava molte volte me non io a lei se non era che lei poteva stare con Sebastiano io non avrei chiuso non avrei chiuso il telefono mai io avrei potuto rimanere con lei al telefono in viva voce per 24 ore capite che cosa è maniacale questa cioè lui dice io potevo rimanere al telefono con lei 24 ore immaginate a dire cosa ciao amore ciao amore ciao amore ciao amore ciao amore ma poi perché in viva voce in viva voce pure per non stare forse con la cornetta in mano non lo so dice al telefono in viva voce per 24 ore avrei potuto stare io con Lilli sentite quest'altra chicca veramente una cosa ti dico io con Lilli ho parlato nella vita più che con tutte le altre persone messe assieme immaginate ha parlato con lei più di tutte le altre persone che lui ha conosciuto messe assieme ora se voi pensate che i contatti telefonici quelli più intensi sono da agosto a dicembre quando quando è sparita con telefonate che risultano si dice di pochi minuti 2 10 minuti 12 8 e allora i mesi precedenti gli anni precedenti nulla praticamente o quasi nulla e allora vuol dire che lo Serpino non ha mai parlato con nessuno al telefono nella sua vita poi immaginate nel suo turbamento interiore ha una stizza di invidia per Sebastiano e dice lui lui fa sempre la stessa vita fa la stessa vita di prima non è cambiato nulla per me è cambiato tutto non ho potuto fare con lei quello che volevo fare cosa cosa volevi fare dove quando quando dove volevo fare con lei quando già io non so le abitudini ma io credo che già un viaggio a Basovizza sia sia una cosa eccezionale non ho potuto fare con lei quello che volevo fare e ribadisce ribadisce la storiella lei mi disse se riesco anche a stare solo un anno con te ho coronato il sogno della mia vita allora avendo conosciuto questo bel caratterino del personaggio se fosse vero io già l'ho detto in un'altra occasione bisognerebbe considerare effettivamente l'ipotesi che Liliana fosse completamente ammattita fosse da ricovero coatto solo così si spiega la mia vita dice è finita con lei con lei ma non è mai iniziata con lei cioè la vita non è mai iniziata con lei non si è accorto di questo fatto non è che è finita con lei non è mai iniziata con lei ma voglio questa adesso è proprio la frase epica proprio il finale della commedia napoletana proprio ma voglio levarmi la soddisfazione di sputare tutto il disprezzo che provo nei confronti di chi se l'è portata via voglio sputargli in faccia dopo posso morire nel momento stesso è una cosa che ho promesso a Lilli perché l'ha promesso evidentemente sta in una sorta di contatto esoterico con lei poi appunto dice ma quale divisa fra due uomini era io il suo unico uomo adesso Sebastiano passa addirittura in terzo quarto piano perché non c'era nessuna divisione nessuna contesa era la donna sua diciamo quindi ancora una volta una commedia assurda Sebastiano ha detto per due parole poi mi dichiara dice per me questo è un delirio mentale dice è una follia totale parole di Sebastiano evidentemente evidentemente vedete bisogna capire anche però che è una strada che Serpine percorse fino in fondo è un lungo cammino iniziato da quel gennaio da quando fu trovato il corpo è una strada che percorse fino in fondo per giustificare a mio avviso secondo me le tante telefonate degli ultimi mesi degli ultimi mesi sì che se non erano di contenuto amoroso allora dovevano essere di altro contenuto e poi considerate che se venisse dimostrato il suicidio sarebbe anche la dimostrazione del suo fallimento e che tutto ciò che ha raccontato evidentemente non era vero perché lui vedete enfatizza sempre di più dicendo io ero io addirittura l'unico uomo della sua vita lei non aveva nessuna indecisione di poter venire da me lei non vedeva l'ora di venire da me allora capirete bene che il suicidio dimostrerebbe che tutto ciò non è vero non è vero quello che ci dice e che non è esistito unica cosa che dice vera anche se credo in maniera involontaria che Liliana non poteva comunicare comunque oltre che per il fatto di non avere il cellulare ma poteva effettivamente avere la famosa pistola puntata alla tempia io credo che qualche amico l'avrà fatta precipitare in giri poco raccomandabili che non potevano essere sconosciuti a tutti quelli che le erano vicino non voglio ripetermi ma quel giorno quel 14 dicembre c'era troppa agitazione quel giorno troppi occhi rossi troppi pianti troppa recitazione tutti un po' a recitare la parte dei buoni di questa storia che non sanno nulla è vero che nessuno poi ha messo i manifesti quando è scomparse il marito ma nemmeno li hanno messi gli amici nemmeno li ha messi il fratello nemmeno li ha messi la cugina o parenti nessuno ha sentito nemmeno questa esigenza perché la paura è tanta a mio avviso si avverte sottostante un sentimento di paura il mio pensiero cose più volte a quei codici quei famosi codici riferiti da Sergio non trovati credo che qualcuno addirittura potesse potrebbe insomma essere stato in casa successivamente venuto con le famose chiavi che non si trovano più a prenderli a cercarli non lo so l'idea va comunque a un piccolo ciclo investimenti sbagliati a debiti non pagati ordini non eseguiti vedete certe cose sembrano banali poi li evitano e certi ambienti poi non perdonano allora questo insieme questo quadro qui bisognerebbe offrire a un GIP per dargli degli spunti di far luce su questa piccola vita segreta di Liliana forse non sua solamente questo potrebbe un GIP valutare nei prossimi sei mesi ma si ha l'impressione vedendo ancora queste trasmissioni si ha l'impressione che tutti giochino in difesa che ci sia paura di far succedere qualcosa allora c'è il bravo marito i bravi amici il povero amante innamorato tutti unanimemente a chiedere giustizia quale giustizia quale giustizia forse sperano in cuore loro di non avere giustizia forse c'è una recondita speranza di non averla questa giustizia nessuno dice di più del fatto di essere dei bravi e buoni le buone persone che volevano bene a questa donna meravigliosa che tutto andava bene nessuno dice altro nessuno ipotizza si preferisce non parlare eppure per quello che si è detto in tutto questo anno anno e mezzo circa Liliana spendeva migliaia di euro in un anno decine e decine di migliaia di euro 30.000 40.000 50.000 60.000 non si sa si sentono dire ogni tanto ha dato ha prestato ha fatto quello ha fatto quell'altro eppure lei non ha non ha fatto alcun prestito il conto in banca sembra immacolato intatto però meglio non toccare certi argomenti che possono essere pericolosi quindi in quale guaio ecco io questo volevo volevo forse fare il titolo in quale guaio si era cacciato Liliana in quale guaio si era cacciata Liliana nessuno ufficialmente se lo chiede nessuno si continua a parlare della storiella d'amore l'amore l'amore non c'è amore in questa in questa vicenda qui non c'è amore eppure si parla solo d'amore si parla d'amore quando è un sentimento sconosciuto in questa vicenda o almeno negli ultimi tempi di questa vicenda hanno voluto dire non c'era amore nella vita di Liliana sempre non è vero non è vero i 32 anni con Sebastiano sono stati anni comunque belli ci sono le testimonianze di questo poi negli ultimi tempi negli ultimi mesi negli ultimi anni non lo so qualcosa è cambiato si preferisce ricamare se il corpo è stato tenuto al freddo nell'abbattitore se è morto agli inizi di gennaio se ci è andata da sola ai giardini dell'ex OPP se è stata portata lì se ci sono segni di violenza se ci sono o non ci sono a cosa serve tutto ciò cosa dovrebbe valutare un GIP dovrebbe valutare se qualcuno ha impedito a Liliana di coronare il suo sogno d'amore ancora questo questo dovrebbe fare ancora una volta beh allora non fategli perdere tempo a questo giudice se non avete il coraggio di dire le cose come stanno veramente allora non fate perdere tempo ai medici agli avvocati ai giudici ai periti andate tutti tutti andate al mare andate almeno una cosa ci guadagnate l'abbronzatura ciao a tutti un abbraccio vi voglio bene